A fondo della Filcams CGL di Sondrio, categoria che tutele i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi, rispetto al futuro della promozione turistica in Valtellina e Valchiavenna. Marina Pensa, segretario provinciale Filcams, in senno all'Assemblea Congressuale di Categoria, tenutasi questa mattina alla Camera del Lavoro del Capoluogo, alla presenza di Antonella Proto-Papa, segretaria regionale di Categoria, e di Guglielmo Zamboni, segretario provinciale CGL, ha puntato il dito contro una modalità di richiamare turisti in valle, ritenuta superata e fin controproducente. Il turismo, dobbiamo dire, abbiamo buoni numeri in provincia, questo anche grazie agli operatori che svolgono questo lavoro. Bisogna fare di più, certamente, perché o scegliamo di rimanere in questo turismo di massa, che tante volte anche mordi fuggi, oppure scegliamo anche che tutta la nostra provincia diventi un soggetto fornitore di un buon turismo. Quindi stiamo pensando a tutte le altre zone che non sono Bormio e Livigno, perché quando parliamo di turismo si pensa a Bormio e Livigno. Invece abbiamo una Chiavenna, una Val Chiavenna, abbiamo una Morbenio, abbiamo tanti piccoli paesi sulle nostre montagne che meritano di essere visti anche dal punto di vista di un turista, perché il turista può anche cercare questo. Alpari ha ricordato l'impegno di Filcams CGL, federazione fra le più numerose per iscritti, quasi 3.000, e la più rosa in assoluto, con una percentuale di lavoratrici associate per il 65%, per una regolamentazione definita necessaria delle aperture domenicali dei negozi. Filcams e tutta la CGL non può che essere d'accordo con una regolamentazione, infatti questo in tempi non sospetti, già la Filcams diceva che la festa non si vende. Una regolamentazione, non siamo per dire che questa cosa non deve capitare, si può regolamentare in modo di rioffrire alle persone che lavorano nel settore del commercio una vita anche di affetti personali che altrimenti viene tolta, viene privata in questo modo. Per quanto riguarda invece la polemica che i consumatori non sarebbero d'accordo, secondo me i consumatori che capirebbero le ragioni se si ritorna a una regolamentazione, se spiegate capirebbero anche le ragioni dei lavoratori stessi e quindi magari non ostaggerebbero in modo così decisivo quel che si potrebbe fare. Ricordiamo che quello di stamattina è stato il primo congresso provinciale di categoria tenutosi a Sondrio, il prossimo è fissato per il 5 ottobre, quando alla braccia di Forcola si riunirà la Fillea, rappresentativa dei lavoratori del legno e dell'edilizia.